Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Crossout. Oggi andiamo a vedere una sottospecie di carro armato costruito da zero. Tante sono state le modifiche durante la costruzione, andiamo a vedere il risultato finale. Abbiamo 8769 di Power Score, durabilità 1042, 30 pezzi su 80, energia 14 su 15, una massa di 18.914 su 21.500 disponibile. Per quanto riguarda la cabina abbiamo quella pesante, da 1.500 di Power Score, la massa limite base da 20.000 e l'energia da 11.000. Siamo equipaggiati con due armi, con un Power Score di 1.950, sono due cannoni. Danno davvero quasi al massimo, tempo di ricarica molto lento, munizioni base, 10 colpi per cannone. Durabilità 1.167, molto resistente. Poi abbiamo cingoli davvero molto resistenti, 1.600 di durabilità. Abbiamo poi il mirino che ci consente per l'appunto di fare uno zoom fino a 400 metri. Poi abbiamo il cuore del nostro carro, ovvero abbiamo l'Apollo 4 che ci dà la 4 di energia. Poi abbiamo esattamente la cassa delle munizioni che ci aumenta per l'appunto le munizioni base. E poi abbiamo il motore che ci dà una massa limite maggiore e ci garantisce velocità extra e power extra. Ragazzi, fondamentalmente l'attacco si basa sui due cannoni. Avevo provato altre possibilità mettendo delle lame rotanti davanti, però effettivamente funzionava e non funzionava. Quindi ho deciso di mettere due cannoni. Ragazzi, direi che ci siamo, andiamo in partita. Come dicevo, il carro ha subito davvero tantissime modifiche durante il tempo. Pensate che avevo messo un lanciamine, quello che avevo visto con il ragno, quello che lancia la mina che blocca i nemici. Avevo messo delle pale rotanti davanti al posto del cannone e poi il cannone singolo sopra la cabina. Però ho notato che non funzionava come avrebbe dovuto. Allora, andiamo verso il settore di alfa. Cerchiamo di capparlo e di essere operativi anche con i cannoni, soprattutto con i cannoni che danno una veramente... Grande, l'ho mancato. Danno una... sono molto resistenti. 75 solo, evidentemente ho fatto danni con il... Aspetta perché c'è il bot. No, sulla destra... eh, ti avevo visto. No, perché ho sparato? Aspetta, aspetta, aspetta che fa male. Però io adesso vado e ti prendo da vicino e poi vedi quanto faccio male io. Fatti... guarda! Ti distruggo, se dovessi prenderti ti distruggo in mille pezzi. Sappilo. Eccoli, eccoli, sono lì, sono lì, sono lì. Abbiamo ancora i cannoni... Eh, mi ha distrutto lo zoom, mi ha distrutto, mi ha distrutto lo zoom. Molto... negativa. Ok. Molto negativa però... Molto negativo il fatto dello zoom perché è facilissimo da perdere. Eh, 1099. Ora capite? La potenza dei due cannoni. Altri 980. Vai, cerca di resistere. Resistimi! Bravo, resisti! No, 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 no. Mancato. Alla grande. Eh, tra poco perdo il cannone. No, 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 no. Ci stiamo messi... Nei guai. Ok. Vai. Guardalo, guardalo! Cosa fai? Maledetto. Ok, 30. Eh, la vedo male però, eh. Abbiamo perso un cannone. Abbiamo perso un cannone, signori. 326. Ehi, no, altro fuoco. Il fuoco non ci piace. Bravo, kill. Abbiamo anche la tromba. Eh, questo qui è molto fastidioso. Molto rapido. Mancato. Abbiamo sette colpi. Fermati, fermati, fermati. Dai, 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 dai. Ok, ok, ok. Ragazzi fanno male. I cannoni fanno male. Adesso che fai? E adesso cosa fai? Adesso cosa fai? Dove vai? Contro due cannoni. Ne è rimasto solo uno. Stiamo... Eh, attenzione. Dobbiamo bloccare il capo su Bravo. Eh, dopo una prestazione molto buona, non vorrei perdere sul più bello. Tre kill, ma i danni che abbiamo messo a segno sono davvero tantissimi. Abbiamo perso un po' di, come dire, un po' di pezzi. Però la vittoria è arrivata. Vediamo anche il risultato finale, perché sono molto curioso. Curioso. Siamo arrivati in secondi con 1431. Bravo il primo. Con 4 kill e un assist. Molto bravo. Allora, nuova mappa. Dovrebbero essere sulla sinistra loro, respawnati. Magari cerchiamo di intervenire. Essi che arrivano. Soprattutto i bot. Ripeto, una parte molto debole del carro armato... No, non parlare. Non parlare. Che devo registrare. Mi sono dimenticato di disattivare... No, più in alto, più in alto, più in alto, più in alto, più in alto. Ah, è più in alto, più in alto, più in alto. No, 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 no. Aspetta, perché abbiamo perso... Eccolo, 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 sulla sinistra, sulla sinistra. Tranquilo, l'ho visto. Quanti sono? Non li avevo visti. Aiuto! Stanno... Stanno pushando forte. E io ancora devo fare una hit. 179, ma... Ragazzi... Aiuto. Ok, one shot. One shot. 4 e 15. Vai, vai, ti aiuto io. Non ti mettere davanti, non ti mettere davanti. Tranquillo che ti aiuto io. 5 e... Altri 500. Levati, levati! Altri 600. Ragazzi, quanto fanno male questi cannoni. Quanto fanno male. Abbiamo risolto una situazione critica. Una situazione critica! 482. Eh, ma siamo rimasti da soli. Siamo rimasti. Siamo rimasti da soli contro tutti. Chi è che mi spara? 743! Kill. Ottimo. Eh... Aspetta, dall'altra parte stanno. Vai, andiamo, 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 andiamo tranquillo. Andiamo tranquillo. Abbiamo ancora 10 colpi, però loro sono 4. Eh, 4... Guarda, maledetto! Eh, 600... Il 618 lo aveva mangiato. Guarda, era anche a fuoco. Andiamo a prendere la kill, però poi sono arrivati, non so con cosa mi hanno distrutto, sinceramente. Penso con tutti quei razzi. Comunque, anche nelle situazioni più difficili abbiamo visto che il cannone... I cannoni fanno davvero il loro lavoro. Molto bene. Sono di nuovo in questa mappa. Vediamo se riusciamo a... A beccare qualcuno. Facendo molta attenzione. Guardalo, 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 guardalo. I bot, i bot, Anthony, via. Via, senza pietà, senza pietà, senza pietà. Non l'ho mancato, 21. Aiuto, aiuto, no, 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 Olivia. Cosa ho preso? Nulla. Fantastico. Qualcuno ha fatto una brutta fine, tra l'altro. Ok, abbiamo praticamente decapitato quel giocatore. 732 è ancora vivo. È ancora vivo. Mannaggia. Ragazzi, aiuto. 799. E tienilo. 799 e tienilo. 428 e tienilo. È rimasto solo con un'arma. Levati, levati, levati. Eh, ma scusami. Ah, cacchio. È Olivia, Olivia. Pensavo che fosse un alleato. Eh, va bene. 1298. Abbiamo ancora 11 colpi. Dai, che gestiamo noi questo lato. No, 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 no. Senti, io ti distruggo l'arma che tieni. Eh, è ancora vivo, guarda. È ancora vivo. Però con il prossimo colpo... No! No! Mi ha distrutto! Ma non è possibile. E vai, distrutto. Come vedete, è anche una... Un raggio d'azione molto importante. Quello è ancora vivo? Bot! No, il bot! Dai, ma non è possibile il bot. No, devo distruggere questo qua, perché... È una questione di principio. È rimasto fermo come... No, l'ho mancato! Era fermo, incredibile. 210. Che bello, guarda. È rimasto senza nulla. Ma non è possibile. Non è possibile. Non è possibile il bot che fa così male. Non è possibile. Non è possibile, Olivia! Schifosa, Olivia! Ragazzi, questo era il carro armato che ho costruito. Mi rendo conto che non è il massimo. Sicuramente avrebbe bisogno di... Eh, maggiore protezione. Soprattutto per quanto riguarda la cabina. Cabina che, una volta che viene distrutto il cannone... Eh, anteriore... È completamente scoperta. Quindi magari mettere una protezione ulteriore e poi il cannone. Però il tutto richiederebbe anche delle basi dove appoggiare questi pezzi. Per quanto riguarda poi la parte posteriore, mi convince abbastanza. Siamo abbastanza protetti. Certo, è un problema quando ti attaccano alle spalle. Però, se i cannoni sono ancora funzionanti tramite la rotazione del carro stesso, possiamo in qualche modo intervenire. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordo, inoltre, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Di lasciare un bel mi piace, se possibile, una condivisione. Ragazzi, video terminato. Grazie per l'attenzione. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.